Sulla fascia sinistra prova la conclusione, l'andiamo in gol! In aria tutto da ripetere, Milito, Milito, parte Milito come un treno, vede parente ed è gol! Passes, ottima imbucata, questa volta è laterale, ma regala palla agli avversari, secondo palo, no, no, tutto sbagliato, si appresta la battuta, come dice Gesù, è il nostro barone rosso e mette dentro! Passa sulla fascia, palla Erba, si divona un gol, già fatto Massa! Castaldi, conclusione, va altissima, Erba, Milito, parente, parente perde palla, Catapano! Se ne va, ottimo Erba, la mette Abate, il piede è il suo ed è gol! Se ne va, siamo in sopita la numerica, Erba, andiamo dentro, Milito è gol! Contro il piede nell'Avellino, Abate, Erba, ed è gol! Nastri, ancora in prota, Nastri l'Oasis, Massa gli fa posizione, parente, è una grande conclusione! Parente, non si può rischiare così, recupera la palla a prezioso, è porta vuota Massa, parente ed è gol! Vediamo Erba, recupera la palla, vediamo Erba, ed è gol! Ulfirenti, ottimo su Abate, Milito salta, è deposita la decima marcatura nel sacco! Il suo esordio e la sua prestazione con un gol, ottimo! Sicuramente soddisfatto per i tre punti, forse la differenza in gol non c'è assolutamente perché loro sono stati in partita fino a 6-7 minuti dalla fine non abbiamo avuto paura di far ripetere quello che era successo al primo tempo in due minuti abbiamo preso due gol, dal 2-0 abbiamo fatto 2-2 quindi i ragazzi hanno giocato fino alla fine con la preoccupazione e la paura di essere rimontati poi per la prestazione sono soddisfatto perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che in settimana ci diciamo continuamente, ormai da qualche settimana grazie a tutti! grazie a tutti!